Ciao a tutti! Per le nostre mini trecce avremo bisogno di un rotore di pasta sfoglia, dello zucchero, un uovo e del cioccolato spalmabile. Innanzitutto prendiamo la pasta sfoglia e con una formina andiamo a ricavarci tante basi quadrate. Ovviamente se non abbiamo una formina adatta possiamo aiutarci con un semplice coltello. A questo punto prendiamo ogni base e andiamo ad incidere delle striscioline. Ci facciamo la stessa cosa su entrambi i lati. Ecco qui il risultato finale, quindi lasciamo vuoto soltanto lo spazio centrale e andiamo ad aggiungerci il nostro cioccolato spalmabile. Ovviamente il ripieno potete cambiarlo a vostro piacimento. Ora andiamo a formare la nostra treccia. Andiamo a richiuderla con le striscioline, tirandole verso il basso e sovrapponendone una all'altra, in questo modo. E facciamo lo stesso per tutta la treccia. è davvero molto semplice. Ovviamente verso la fine andremo a richiudere spingendo le striscioline verso l'alto e non verso il basso. Ecco qui la prima treccia pronta. Possiamo ovviamente andare a incidere delle striscioline più più larghe perché il procedimento sarà comunque lo stesso. Quindi via libera la vostra fantasia. Non cambierà nulla. L'unica cosa che cambierà sarà che avremo meno intrecci e sarà anche più veloce da realizzare. ed eccola qui. Posizioniamo tutte le trecce su una teglia ricoperta da carta da forno, spennelliamo l'uovo e aggiungiamo un po' di zucchero. A questo punto possiamo infornare in forno per scaldato a 180 gradi per 10 minuti circa. Ovviamente il tempo di cottura poi dipende dal vostro forno. Ed ecco qui le nostre trecce pronte. Andiamo ad aggiungere un pochino di zucchero a velo. Nulla è davvero una ricetta semplicissima, la troverete anche sul blog. ed approfitto per lasciarvi anche altre ricette simili, e cioè i cornettini di penale a nutella, una delle mie ricette preferite. Poi i fagottini, anche questi buoni e ultra semplici da realizzare. e infine una delle vostre ricette preferite, i cuoricini alla nutella. e non la vi mando un bacione e ci sentiamo al più presto. Ciao ciao!